Ci siamo, tutto pronto, partiti cavalli della quarta corsa di quest'oggi. Tutti fanno una buona partenza, la più veloce Blonde Queen che poi si ritrae lasciando spazio proprio a Solo Vresa. All'esterno buona la partenza di Bella Idea che si trascina al suo interno Chiedimilalina. Il primo parziale è stato veramente brillante con Chiedimilaluna che a questo punto è il leggero vantaggio. Al suo interno c'è Solo Vresa, poi in terza posizione Bella Idea, dietro a questi si ritratto anche I.M. Iron Man, poi al suo interno c'è Blonde Queen, poi ancora Proclaimed. All'interno troviamo la giubba azzurra di Fairy May, Piccolanima, poi Alessia Jet, Penango a chiudere il gruppo Hard Way Winner. Cavalli che vanno ad affrontare la prima parte della curva, Solo Vresa, si è ripresa la testa della corsa nei confronti di Chiedimilaluna. Bella Idea, si è adeguata in terza posizione. In quarta adesso c'è Blonde Queen. In quinta all'interno invece troviamo Piccolanima che precede Fairy May, poi Proclaimed, al cui esterno galoppa anche I.M. Iron Man. Poi Penango, Hard Way Winner che si avvicina in mezzo al gruppo e Alessia Jet in coda. Siamo in dirittura d'arrivo con Blonde Queen che tenta l'anticipo attaccando subito Soul of Race. All'esterno c'è Proclaimed, ancora più all'esterno troviamo anche la figura di I.M. Iron Man. All'interno Piccolanima con i cavalli che sono a 400 al traguardo superati con Blonde Queen in vantaggio nei confronti di Soul of Race. Ci prova Proclaimed, ci prova all'interno anche Piccolanima con Blonde Queen che per ora ha respinto tutti gli attacchi. Siamo a 100 dal traguardo con Blonde Queen che deve controllare l'affondo di Proclaimed che ci prova. Anche Bella Idea della partita con Blonde Queen che nella fase conclusiva controlla ancora una volta Proclaimed al terzo Bella Idea. Vince dunque Blonde Queen. Terza affermazione in carriera per la figlia di Hot Streak. Carlo Fiocchi in sella, training di Luciano e Gabriele Bietolini, colori di Francesco Di Lena. 4 al primo posto, al secondo il 2 Proclaimed, al terzo invece Bella Idea numericamente 4-2-8. L'ordine d'arrivo ufficioso della quarta corsa con le ultime battute conclusive. Vince Blonde Queen quota di 8 per la Saura allenata da Gabriele Bietolini. 4 al primo, 2 al secondo, 8 al terzo è il risultato dell'handicap della quarta corsa. È tutto. Grazie. Grazie.